Ferdinandea è il nuovo progetto delle vie dei tesori per l'edizione primaverile del festival nella città di Sciacca. Tre weekend, da sabato 26 marzo a domenica 10 aprile, alla scoperta della città, tra visite ai luoghi, narrazioni, tour, pesca notturna, mostre, visite ai laboratori del corallo. Inoltre, un videomapping notturna nell'atrio del Museo del Mare, firmato da Odd Agency, reduce dal successo di Anima Mundi all'Orto Botanico di Palermo, visitabile ogni giorno dall'1 al 10 aprile, non solo nel weekend, dalle 19.30 a mezzanotte. Tutto declinato sul mito dell'isola che non c'è, o isola pensante, come invece la dipinge da 30 anni Franco Accursio Gulino, che esporrà nella chiesa dello Spasimo una mostra, che è una summa del suo lavoro, e che tesserà con i suoi dipinti un filo rosso tra i luoghi aperti alle visite. Un museo diffuso, legato tutto da Ferdinandea, dove in ogni luogo si potrà scoprire un'opera. Un'iniziativa delle vie dei tesori, con il supporto del Comune di Sciacca, con questa nuova edizione inedita che precede di poco la Pasqua, propone visite ad alcuni luoghi simbolo della città, prima fra tutti la chiesa dello Spasimo, che chiusa da anni aveva riaperto le porte durante l'edizione autunnale del festival, divenendo subito un sito importante di ripartenza e recupero del territorio. Poi torri campanari, collezioni private, case d'artista, giardini segreti, chiese dimenticate. Il videomapping farà rivivere la forza della natura sul prospetto del Museo del Mare appena intitolato a Vincenzo e Sebastiano Tusa. Poi le esperienze e le passeggiate. Su un aereo biposto si volerà sulla città, i sub più esperti potranno emeggersi sul vulcano sommerso. Si potrà sfrecciare nei vicoli stretti su una coloratissima apecar, visitare le botteghe degli orafi e assistere al lavoro dei ceramisti, partecipare alla pesca notturna o andare a lezione di uncinetto e tanto altro. La fondazione, su richiesta dell'amministrazione comunale, donerà al termine del festival un progetto per la realizzazione di un museo multimediale sulla Ferdinandea all'interno del Museo del Mare. L'obiettivo, hanno dichiarato il sindaco Valenti e l'assessore Mondino, è quello di dotare Sciacca tramite il PNRR di una nuova e moderna esperienza museale, che coniugando tecnologia e narrazione consentirà ai visitatori di immeggersi nell'azzurro mare che abbraccia la Ferdinandea. Per partecipare a Ferdinandea, l'edizione primaverile del festival delle vie dei tesori, è necessario acquistare il coupon per l'ingresso con visita guidata da 18 euro per 10 visite, da 10 euro per 4 visite e da 3 euro valido per un solo ingresso.